Bene, salve a tutti, io sono sempre io, Giovanni Messina, il faccione che vedi, sono sempre io e andiamo avanti in queste nostre chiacchierate, ormai siamo arrivati all'episodio 30 l'ultima volta la mia barba era nera, mamma mia come si invecchia, cacchio e niente, quindi continuiamo le nostre chiacchierate per quanto riguarda il mondo del blueprint quindi della programmazione all'interno di Unreal Engine capisco che molte cose possono essere per certi versi così noiosi e subito si vuole arrivare ad una situazione pratica ma purtroppo ci sono alcune cose che sono propedeutiche ad esempio se io non ti spiego che cos'è il nodo timeline tu non riuscirai probabilmente mai ad esportare un asset di una porta un asset di una porta magari dotata di animazione, quindi di apertura e chiusura detto questo ti devo sempre ricordare altre cose che da adesso in poi con una cadenza grosso modo bisettimanale, spero di faccerla integrerò per i miei Patreon, qualora se hai Patreon puoi farlo da subito penso che domani integrerò già la prima parte inizierò ad integrare come dicevo degli asset belli e pronti per l'architettura che riguarderanno grosso modo l'arredamento quindi lampade, quadri, sedie o quant'altro può esistere in un ambiente architettonico quindi se sei Patreon potrei usufruire di tutti questi assets di tutte queste risorse oltre ovviamente a quelle che già sono presenti sul server se non lo sei e sei interessato alla cosa allora anche con una piccola donazione mi vieni a trovare e lì si creerà un filo tra di noi ma continuando di che cosa ci andremo ad occupare oggi oggi ci andremo semplicemente ad occupare diciamo di andare a realizzare un timer per che cosa ci può servire un timer in architettura? beh, per tante cose adesso non sto lì ad elencarle magari non lo utilizzeremo sempre magari ci potrebbe capitare di voler fissare a video su un'interfaccia, un countdown, un controllo a rovescia per cui dopo 10 secondi magari si deve aprire una porta si deve spostare un oggetto e quant'altro come dico magari non è una cosa che faremo sempre però comunque almeno un piccolo esempio lo andremo a fare ovviamente integrato in questo esempio andremo un po' a fare delle cose che già abbiamo visto come creare qualche variabile e soprattutto andremo a fare un esempio di come si utilizzano in realtà le funzioni sia con l'esempio del timer che faremo un esempio a parte che cosa sono le funzioni, perché si utilizzano le funzioni e bla 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 prima di passare alla parte operativa anzi, qualora io ti stia facendo la palla ma te lo dico solo adesso perché ho finito quindi in un certo senso ci sei cascato insomma c'è nella descrizione scherzi a parte semplicemente il collegamento alla parte operativa vai, cliccaci sopra e ti ritroverai nella parte per così dire tra virgolette operativa bene detto questo non starò sempre lì a ricordarti tutti i miei riferimenti social da oggi in poi penso che comunque li troverai sempre in descrizione quindi ti ricordo il canale attenzione al canale telegram molte novità quindi canale telegram quindi pagina e gruppo facebook e insomma e tanto altro poi come ripeto qualora volessi creare un filo diretto con me basta semplicemente venire su patrio e lì senza alcun problema abbiamo un canale telegram per poter comunicare per rilevarci i problemi e quanto altro bene io adesso passerei alla parte operativa ma come dico sempre lo farei prima di avere dove sono indossati i miei occhiali e di aver lanciato la nostra brava sigla bene bentornati Giovanni Messina sempre qui vi saluto ciao mi vedete la manina bene come descritto nella intro andremo a fare andremo a continuare la nostra chiacchierata per quanto riguarda il mondo della blueprint ovviamente molte delle cose che abbiamo tralasciato poi le andremo a vedere in un esempio pratico non vuole essere questa un corso di programmazione chiaramente capisco anche chi si siede vicino e che mi sta seguendo vuole arrivare a delle cose effettivamente pratiche però qualcosa di propedeutico pure deve esserci perché se no se noi non impariamo le cose basiche le cose basiche per quanto riguarda il mondo della programmazione quindi io farei qualche altro piccolo esempio poi vedrei un poco alcuni nodi che ci possono capitare per la maggiore come il nodo timeline e quindi poi dopo passerei effettivamente al lato pratico anche perché dopo questa chiacchierata andremo a io andrò a postare per i miei patreon ok andrò a postare tutta una serie di forniture per così dire di oggetti d'arredo e quant'altro li posterò con una cadenza bisettimanale quindi due volte a settimana grossomodo riuscirò a mettere un pacchetto di elementi già pronti per l'architettura quindi si parla di sedie si parla di tutte in alta quindi di scrivanie di non so che altro riguardi l'arredamento quindi lampade o quant'altro tutte in alta definizione già pronti all'uso all'interno di Unreal questa è una promessa che faccio ai miei patreon ok come già detto tra l'altro nella intro ma iniziamo subito in questa parte operativa giunto ormai all'episodio 30 quindi io creerei la classica nuova cartella lesson underscore 30 ok scusate e vado a creare sempre le mie cartelle levels ad esempio e vado a creare una nuova cartella la chiamo si sempre blueprints ok andiamo a salvare questa mappa all'interno della nostra lesson 30 quindi la chiamiamo lesson 30 e viva l'originalità adesso ci rechiamo sempre nella cartella blueprint e andiamo a creare il nostro classico ormai actor blueprint vuoto chiameremo bp underscore timer ok perché perché andremo a fare un esercizio dove prenderemo in considerazione un po' di cose che già ci siamo detti e andremo a creare un piccolo timer sono di quelle cose che possono capitare effettivamente in architettura e che quindi vale la pena di di fare un piccolo esempio allora facciamo doppio clic sul timer ok entriamo nella nostra blueprint mettiamoci nell'event graph come sempre cancelliamo questi due nodi che per adesso non ci servono a nulla lasciamo pure l'event begin play noi sappiamo che dobbiamo dobbiamo abilitare l'input quindi come sempre andiamo ad abilitare l'input e adesso da qui in poi andiamo nella parte relativa alle functions vedete qua e clicchiamo pure sulla parte con il più vicino quindi function plus per raggiungere una funzione la chiameremo f underscore count down ok facciamo vedete che una volta creata la funzione si apre un nuovo pannello appunto che è il pannello relativo alla funzione che è di questo tipo la nostra funzione può essere richiamata una volta creata le funzioni che cosa sono le funzioni sono degli elementi forse le abbiamo trascurate un poco in questa parte ma in realtà tutti i blocchi di codici che molto probabilmente vengono riutilizzati all'interno di un codice più complesso possono essere raggruppati sotto una funzione e poi richiamati semplicemente traslando il nodo funzione semplicemente perché quella è un'operazione che si ripete è un'operazione che il tra virgolette il software già ha fatto e quindi io posso richiamarla in qualsiasi momento adesso andiamo a creare una variabile creiamo una variabile di tipo in facciamo chiamiamola una variabile timer si chiamiamola timer ad esempio e andiamo scegliere una tipologia di tipo integer per questa variabile andiamo pure a compilare diamo un valore per adesso pari a 10 ma questa variabile io la renderò editabile e poi vi spiego il perché non è che sia fondamentale questa cosa ma comunque giusto ai fini del esempio una volta aver creato questa variabile la trasliamo come ben sappiamo fare all'interno della nostra viewport adesso possiamo leggerne il valore o andare a scrivere il valore noi andremo a leggere il valore quindi prendiamo 10 adesso digitiamo il segno meno da tastiera e scegliamo integer minus integer ok lasciamo pure 1 in questa posizione poi prendiamo di nuovo la variabile timer e andiamo invece questa volta a scriverne il valore quindi che cosa ho fatto parto da 10 tolgo 1 e qua mi trovo a 9 però questa è un'operazione che va ripetuta ogni secondo e quindi si capisce che da 9 poi va 8 poi va 7 bla 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 quindi andiamo a collegare questa parte qui andiamo a collegare questa parte qui adesso qua posso richiamare un nodo di tipo print string ok il classico nodo di debug ma ricordatevi che questo nodo ci serve solo come esempio ma in realtà ho fatto qualche esempio anche all'inizio delle nostre chiacchierate possiamo semplicemente mettere questo valore in un widget menu di testo e quindi fare in modo che appaia in una posizione ben definita della nostra interfaccia adesso se io ovviamente vado a collegare questo elemento intero con questa stringa lui mi chiederà di convertirne in stringa il valore è perfetto abbiamo creato la nostra funzione f underscore countdown adesso richiamoci nella parte relativa all'event graph una volta abilitato l'input da questa parte qui una volta che il software ha fatto questa operazione in realtà trasliamo il wire e andiamo a richiamare set timer vedete set timer by function name questo qua è un modo di richiamare un timer attraverso il nome di una funzione il nome della nostra funzione è f countdown ctrl c lo mettiamo in questa parte qui ctrl v in modo che non possiamo sbagliarci è una funzione che ci dovrà essere restituita ogni secondo e andrà in looping ok quindi compiliamo e salviamo andiamo un po' all'interno della funzione e magari per questa stringa settiamo la durata di un secondo ok compiliamo il tutto ok adesso che cosa mi devo aspettare niente mi devo aspettare una situazione del genere che se io prendo il nostro actor blueprint e lo inizializzo nella scena ok e vado in play siamo usciti da questa parte qua 7 6 5 4 3 2 1 0 meno 1 meno 2 meno 3 meno 4 meno 5 quindi lui prende quella parte lì e va a togliere semplicemente un elemento ovviamente avendo io reso editabile questa parte qui del timer invece di 10 potrei mettere 50 ovviamente se mettessi 50 adesso qui nella parte alta 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 ovviamente questa è una funzione che apre diversi diciamo apre diverse cose non solo a livello architettonico ma anche ad altri livelli ma se io volessi rappresentare un orologio o comunque un conto alla rovescia in una determinata parte della nostra interfaccia perché magari sappiamo che da quella da quell'ambiente dopo determinati secondi dopo un determinato tempo succede qualcosa allora noi lo possiamo fare tramite il timer possiamo dire al timer che una volta che sei uguale per dire a zero cioè hai terminato la conta dei numeri positivi allora fai avvenire questo tipo di evento a questo servono i timer bene per questo breve esempio che cosa ho voluto mostrarti ho voluto mostrarti innanzitutto di utilizzare un qualcosa come le funzioni ma le possiamo fare un altro esempio giusto perché ci troviamo abbiamo un altro po' di tempo supponiamo di creare una nuova funzione questa funzione la voglio chiamare somma la nostra funzione è somma voglio prendere altre due variabili questa prima variabile la faccia del tipo float la chiamo sum1 andiamo a fare un'altra variabile vedete che ricorda la tipologia quindi sum2 ok e poi magari potrei fare anche un'altra variabile potrei chiamare total ma insomma voglio dire non è questa la situazione supponiamo che da sum io vada in print string ok supponiamo di prendere sum1 supponiamo di digitare il tasto più quindi float più float qua gli metto sum2 ovviamente le due variabili devono essere settate perché come sono adesso di default 0 più 0 è uguale a 0 chiaramente quindi facciamo compiliamo somma 1 mettiamo 5.65 visto che è di tipo float la 2 la mettiamo a 9.87 sto dando letteralmente i numeri quindi adesso abbiamo attribuito dei numeri del tutto casuale ai nostri numeri ovviamente di tipo decimale quindi andiamo in string adesso ovviamente ho una funzione che mi restituisce questa somma ovviamente se io ovviamente questi due numeri li posso scegliere io se sono dei numeri editabili li posso editare anche dall'esterno e quindi posso consentire a questa funzione la possibilità di utilizzare altri numeri chiaramente vado nell'event graph anche per dare una motivazione al nostro al nostro input e vado a richiamare azione ok che corrisponde al nostro tasto F da tastiera chiaramente posso dire posso prendere la nostra funzione somma e posso dire che quando l'ho presso voglio che succeda questo andiamo a vedere che succede scusate in play presso F vedete che è 15 e 52 15 e 52 mi restituisce la mia somma dei numeri ovviamente che io ho dato oltre a restituirmi in questo caso il timer supponiamo di staccare un po' il nostro timer sì quando io presso il tasto F da tastiera deve succedere questo che succede infatti se presso F vedete 15 e 52 15 e 52 perché è la somma dei due numeretti che io ho dato là all'interno chiaramente questo è molto ma molto importante nel momento in cui io questa è un'operazione ciclica che avviene magari periodicamente o molte volte all'interno del mio codice allora per me è molto comodo invece di andare sempre di stare sempre lì ad andare a richiamare variabile fare prendo la mia funzione la spawno all'interno della mia viewport ok e vado semplicemente ad agganciare il PM bene anche per quanto riguarda questa parte io penso sia tutto stay tuned mi raccomando stai sugli attenti perché da adesso in poi come dicevo farò partire per i Patreon tutta una serie di episodi che più che altro riguardano la possibilità di poter scaricare delle inizio da adesso di poter scaricare degli assets belli e pronti per l'architettura parlo quindi di arredamento in generale ad alta definizione e già pronti all'uso quindi non devi fare nulla devi solo metterli all'interno della scena qualora dovresti osservarti per un tuo qualsiasi progetto bene da Giovanni Messina io penso che anche oggi sia tutto niente io ti do appuntamento al prossimo episodio ciao ciao